Hashtag noi amiamo gli animali. Animali cannibali, quali sono i più pericolosi? Il regno animale può essere un luogo davvero molto pericoloso, non solo per l'essere umano, ma anche per l'incolumità degli animali stessi. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattro Zampe, vi sveleremo tutti i segreti degli animali cannibali. Si tratta di pura sopravvivenza, eppure ci sono alcuni animali che non si fanno scrupoli nel nutrirsi dei loro simili. Non a caso il detto recita cane mangia cane, e forse è ben più di una semplice metafora. Il cannibalismo è una pratica molto diffusa tra gli animali, sebbene faccia spesso inorridire gran parte del pensiero occidentale. Sono naturalmente tutti mossi da un istinto di sopravvivenza, e spesso la pratica si mette in atto nei confronti dei piccoli nati o del partner dopo l'accoppiamento. Da citare necessariamente il caso dell'amantide religiosa e di altri ragni, che mordono la testa del compagno dopo l'inseminazione per nutrirsi e prepararsi all'arrivo della prole. Spesso, seppur con orrore, si viene a sapere di femmine che mangiano i propri cuccioli, come è frequente negli scorpioni, per mancanza di cibo o, nel caso di criceti e conigli, che consumano i piccoli nati malati e deboli per scoraggiare eventuali predatori a introdursi nel loro territorio. Altre figure materne, invece, offrono in sacrificio il loro stesso corpo per consentire la riproduzione della specie, consentendo ai piccoli nati di consumare il corpo dall'interno in una pratica nota come matrifagia. Ma quali sono gli animali cannibali più famosi della natura? Nell'elenco non può mancare la già citata amantide religiosa, ma anche il ragno pescatore nero, il ragno granchio e la vedova nera. Seguono in acqua lo squalo toro e il pesce persico, ma anche la rana velenosa o copipi e la salamandra tigre. Tra i grandi animali ritroviamo del cannibalismo tra gli scimpanze, il coniglio, il criceto, l'ippopotamo, l'orso polare e infine tra gli insetti i cannibali più popolari sono la vespa parassita e il grillo. Per questo video è proprio tutto, se volete scoprire tutti gli altri animali cannibali esistenti in natura cliccate sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, volete maggiori approfondimenti? Scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto. E voi li conoscevate già tutti questi animali cannibali? O alcuni vi hanno sorpreso proprio per questa loro terrificante caratteristica? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe. Ciao ciao!